Ciao a tutti ragazzi bentornati qui sul mio canale Angel 3 Dark 3 Welcome in the Dark sempre sull'angolo dell'unboxing con il primo video acquisti del 2022 ci siamo finalmente 22 gennaio oggi sabato e partiamo col video acquisti partiamo subito con gli acquisti digitali come sono pochi però sono bei giochi secondo me e partiamo con gli acquisti digitali di Nintendo Switch su Nintendo Switch Digital mi sono recuperato Cuphead che già avevo per Xbox però lo volevo giocare assolutamente sulla Nintendo Switch preso in sconto a 13,99 anziché 19,99 prezzo bomba bellissimo sconto tra l'altro io Cuphead non l'ho visto mai in sconto da quando è stato messo sullo store della Nintendo praticamente mai questa è stata la prima volta che lo vedo in sconto e l'ho preso subito poi continuando ho preso un gioco che si chiama Turnip Boy Commits Tax Evasion in pratica la rapa che non vuole pagare le tasse è evasore fiscale questa piccola rapa molto particolare come gioco ci sto ancora giocando molto divertente fa delle battute si prende molto su serio prende in giro un pochettino la società moderna c'è un po' di tutto devo dire che è veramente bello sto gioco questo Turnip Boy interessante pagato 8,99 anziché 14,99 top davvero un bel gioco un bell'indie insieme a Cuphead poi togliendo i giochi Switch non ho preso nient'altro su Switch per adesso digital su PS4 e PS5 mi sono recuperato Dragon Ball Z Kakarot il Season Pass a 12,49€ anziché 24,99€ 50% di sconto ottimo io ancora devo iniziare però già mi prendo Season Pass e tutto così quando giocherò il gioco mi farò tutto quanto una tirata con tutti i contenuti aggiuntivi che hanno messo dopo se non sbaglio c'è anche Gohan del futuro contro i Cyborg Goku Super Saiyan Rosso, Vegeta Super Saiyan Rosso non mi ricordo se c'è anche Goku Ultra Instinct non mi ricordo adesso raga comunque ci sono diverse cose nel Season Pass molto molto fico sto Dragon Ball Z Kakarot piccolo spoiler forse a febbraio viene annunciato un nuovo gioco di Dragon Ball vedremo non si sa ancora comunque gli acquisti digital sono finiti e passiamo alle cose che più mi interessano a voi gli acquisti retail vediamo che cosa ho recuperato allora primo pacco questo qua che mi arriva direttamente da Aliexpress così ce lo togliamo dalle scatoline su Amazon uh puzza di Covid qua dentro c'è proprio odore di Covid giapponese mi sono preso una cosuccia molto interessante a 13€ e qualcosa adesso non mi ricordo tra l'altro non so che cacchio mi ha scritto qua il tizio 8 don't break it non rompere questa cosa qua con la faccina sorridente tipo boh non lo so e sto parlando di una skin una skin adesiva in come si chiamano quelle cose in vinile una skin in vinile per la Playstation 5 con anche dei copri skin per il DualSense ve la farò vedere più avanti in un altro video dove mi arriverà i pannelli della Playstation e io andrò a montare questa skin mi terrò quella la bianca originale e poi andrò a fare una Playstation 5 completamente modificata questo su Amazon stava a 30€ questo kit io l'ho pagato 13 tramite Aliexpress quindi top quality poi continuando paccozzo di GameStop andiamo a vedere che cosa mi sono preso tanto plurible ma veramente tanto 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 mi sono andato a recuperare i grip i tombstick come si chiamano grip precision protector questi sono quelli originali per Xbox Series X infatti riprendono lo stile della Xbox in alto che ha quei puntini verdi che ha quella parte verde sono della FR Tech io l'ho presi 5€ se non sbaglio 4,99€ adesso stanno in sconto a 3,90€ GameStop questi ci sono anche su Amazon ma su Amazon stanno a 6€ e qualcosa Amazon non so perché li vende di più poi mi sono preso sempre della FR Tech Glow in the Dark custom kit questo è per il DualSense di Playstation 5 e praticamente è fosforescente brilla al buio io vado matto con queste cose mi piacciono un botto in più quando perdo i pad così li trovo facilmente perché si illuminano ho un sacco di luci nella stanza quindi quando spengo tutto risultano belli carichi la sera la notte io li trovo facilmente e qui praticamente troviamo due tombstick che si illuminano il cover case che si illumina e anche un adesivo da applicare sul touchpad che si illumina anch'esso fosforescente e insieme sempre a questo kit mi sono preso un altro kit uguale per il pad Xbox Series X adesso li apro e ve li faccio vedere montati quindi stacchiamo un attimo e vediamo queste cose montate davvero davvero fighi ok ragazzi rieccoci con i copripad montati con il skin adesso dovrei chiudere la luce vediamo vediamo che è riusciato così vediamo qua ora non so se si vede ma si illuminano vedete adesso si sono caricati poco quindi la luce sarà lieve poi quando saranno belli carichi saranno tutti completamente fosforescenti devo dire che è bello anche il grip qua dietro questo è quello per Xbox Series X vedete si stava caricando qua in basso stavo facendo un po' di verde comunque ci vuole tempo perché si caricano adesso riaccendiamo le luci ok basta farli con una semplice torcia anche nel telefonino vedete con la torcia del telefonino basta appoggiarla e loro si caricano oppure basta tenere la finestra aperta basta che gli arriva un po' di luce e loro si caricano devo dire è molto bello l'effetto di fosforescenta mi piace tanto questo è come si presenta quello per PS5 il DualSense bellissimi grip qua a scalettatura molto molto belli molto rigidi tiene bene la presa qua dietro si illumina anche la scritta in verde FR Tech devo dire la qualità dei materiali è molto buona qui liscio dietro dà abbastanza grip anche i tombstick sono ottimi questi qua questo modello qua fanno abbastanza grip buoni 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 e anche l'adesivo molto figo non non pensavo che veniva così così bene penso che terrò così il mio primo DualSense quello che ho con la console poi gli altri magari li modificherò in futuro in maniera diversa vedrò comunque bello 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 mi sta piacendo e questo è come si presenta quello di serie 6 anche questo con la scritta fr tech con lo stesso logo spero si veda bene questi sono i tombstick montati molto belli non danno tanto grip sono lisci di sopra speravo che erano più gripposi invece bocciati a livello estetico fighi però a livello di utilità non tanto e anche la la cover questa qua della serie 6 è molto liscia molto scivolosa quindi terrò questo per ora per il mio primo pad della serie 6 poi sicuramente farò altre modifiche dietro è così con questi pad si sporcano che è una bellezza dentro trovavo anche questi altri tappi qua sempre fosforescenti con sempre i puntini che vanno a rimarcare lo stesso colore praticamente questo è il modello nero e questo è il modello fosforescente molto molto fighi per ora tengo questi poi in caso cambio con questi qua vedrò e questi in caso li metterò in un altro pad di serie 6 comunque buone 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 come custodia soddisfatto pienamente soddisfatto per adesso continuiamo continuiamo vediamo un po' cosa ho preso paccozzo amazon ah super giusto ha speso qua una trentina di euro costati questi qua 12 12 quindi 12 12 e 4,99 questi qua questi che vedete montati comunque continuiamo paccozzo amazon mi sono preso un altro kit stand di ricarica per i dual sense della playstation 5 ora mi devono arrivare anche degli altri che devo mettere in prova questo l'ho pagato solo 7,99 euro su amazon sempre della dob che ormai colleziono tutti i prodotti di questa marca sono ottimi davvero poi al prezzo che l'ho trovato davvero botta di culo su ebay sta a 15 euro se non di più e praticamente c'è un motivo perché ho acquistato un'altra basetta una già ce l'ho perché devono arrivarmi diversi dual sense alcuni li modificherò altri li terrò originali comunque questa che avete visto era una soft modifica cioè gli metti la skin gli metti in adesivo e via soft osforescenti belli fino a un certo punto poi vedrò se fare qualche qualche dual sense completamente modificato lo vado a smontare comunque questa è la basetta ai piedini molto carina se non sbaglio questi si staccano non so come si staccano adesso comunque c'è lo scritto che si staccavano non lo so comunque adesso non voglio far danno comunque molto bella molto minimal dovrebbe caricare il pad in due orette due orette qualcosa quindi ottimo l'originale li carica in tre ore quindi top come detto mi serviva una nuova basetta perché bisogna arrivare altri dual sense e dovrà arrivare anche della roba per xbox serie 6 sempre gadget questo video acquisti praticamente più gadget più cose di utilità estetica che che giochi si può dire e questa è la basetta col cavo type c davvero davvero ottima minimal come piace a me questa sfrutta la ricarica dalla parte di sopra del dual sense invece l'altra quella che ho che si illumina di arancione sfrutta la parte di sotto con il pirellino ottimo 7 euro e 99 tanta tanta roba l'andrò a testare e vedrò com'è allora andiamo con gli acquisti veri e propri primo paccozzo e bei sono stato fregato 12 euro e 99 13 euro gli ho dato a questo venditore di ebay che l'ho anche segnalato e gli ho anche scritto che mi ha dato una cosa non originale quindi se mi stai vedendo si si l'ho segnalato e il feedback non te lo lascio su ebay mi voleva dare il rimborso l'ho rifiutato guardate li puoi tenere 13 euro non mi cambiano la vita eccolo qua The Mask da zero a mito Jim faccia di gomma Carrie nel film che ha rivoluzionato la storia degli effetti speciali io adoro questo film lo guardavo sempre da piccolo con Jim Carrey adoro anche l'attore Jim Carrey per me tanta tanta roba il Dr. Jekyll e Mr. Hyde più pazzo e colorato del cinema come vedete è nuovo cioè adesso io l'ho spacchettato qua sopra per vedermi il film ma ho scoperto che questa qua è una mera imitazione in pratica il dvd non è originale perché trovare un dvd originale della Jackie Gory Group nuovo sigillato così è difficilissimo infatti poi ho fatto delle ricerche su internet come vedete non c'è nemmeno il libretto e se questa parte non risulta praticamente luminosa cioè proprio si vede che è un dvd fotocopiato raga vediamo se riesco a uscirlo senza distruggerlo perché tanto ormai i soldi li ho rifiutati come potete vedere è anche stampato male vedete qua qua è più colorato qua di meno la parte bianca questo è un dvd falso un falso d'autore in piena regola si vede anche abbastanza maluccio una bella cacata ho preso per 13 euro comunque volevo il film a tutti i costi trovarlo originale non mi metto di nuovo a ricomprarlo e me lo tengo così ormai pazienza 13 euro The Musk un film che a me piace un bordello continuando sempre su amazon sono andato a recuperarmi The Musk 2 ho preso il primo che fai non lo prendi il secondo magari in futuro io spero che esca un The Musk 3 se Jim Carrey si decide a farlo o comunque chi ha chi ti tiene i diritti di questi film questo l'ho visto non è che mi è piaciuto più di tanto non c'è nemmeno Jim Carrey in questo film è una mezza cacatina comunque è divertente c'ha delle scenette che fanno ridere questo sembra sia originale sembra perché ormai stanno uscendo un botto di DVD falsi in giro comunque ci sono delle guide su internet per capire se il DVD è originale o no per esempio su questo qui se il film è uscito mettiamo nel 2003 ok come fa ad avere i file modificati nel 2004 2005 è impossibile se è uscito prima quindi basta collegarlo anche al computer mettere il disco in un computer e fare informazioni sulle tracce video per capire se è un DVD originale o anche no comunque si vede anche i materiali la custodia non è originale comunque The Mask 1 e The Mask 2 tanta tanta roba questo l'ho pagato 7 euro e qualcosa adesso mi ricordo 7 euro e 90 forse e questo 13 euro peccato perché 13 euro per un falso non è tanta roba è stato mezzo fregato qua stavolta pazienza allora continuiamo sempre su Amazon sempre Jim Carrey Ace Ventura la chiappa animali un altro film della mia infanzia io li avevo già ordinati questi due in versione italiana sempre da Amazon venditore terzo non mi è arrivato il pacco è andato smarrito e mi hanno dato il rimborso quindi che cosa ho fatto li ho ricomprati però in versione francese questi pagati 10 euro l'uno andiamo a spacchettarlo e dopo questo me lo devo vedere l'altro già l'ho visto se apriamo possiamo notare che il disco è a specchio e ha tre scritte Ace Ventura Pet Detective Ace Ventura la chiappa animali c'è anche la scritta in italiano Ace Ventura Detective Fall vabbè la scritta in francese che adesso non so pronunciare ma comunque ci sono tutte e tre le lingue quindi c'è anche l'audio in italiano top si capisce quando un dischetto è originale vedete qua già come a specchio e qua c'è il codice questo è originale quello no quindi Ace Ventura la chiappa animali altro acquisto preso sempre su Amazon questo l'ho visto ieri bellissimo film Ace Ventura missione Africa bellissimo ultra divertente raga si caca quando prende il pipistrello bianco cioè è troppo figa quella scena cioè se non l'avete mai visti i film di Jim Carrey questi qua guardatevi perché vi pisciate sotto dalle risate è troppo troppo divertente poi è veramente bravo come attore ha una mimica facciale assurda cioè guardate spero di vedere di nuovo Jim Carrey sul grande schermo adesso so che sta facendo Sonic 2 il film quindi mi sono voluto recuperare questi questi suoi capolavori anche questo disco a specchio e tutte e tre scritte come potete vedere l'ultima Ace Ventura missione Africa bello 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 oggi mi vedrò questo qua la chiappa animali questo è il primo film e questo è il secondo film e tutte e due hanno la lingua in italiano anche i sottotitoli in italiano anche se sono copie come detto francesi si vedete dalle scritte top film davvero davvero belli anche i The Mask il primo il secondo più il primo il secondo è un sacchissimo ultimo pacchetto conclusivo del video acquisti non poter ma mancare un gioco e cosa mi sono andato a recuperare visto che per adesso ho tutto e sto aspettando che escono giochi nuovi un pezzo che mancava nella mia collezione e ho recuperato Spiro Reignited Trilogy la praticamente Spiro 1 2 e 3 a 22 euro nuovo sigillato ragazzi lo cercavo da un po' su Amazon e era esaurito finalmente quando ho visto il restock l'ho preso subito raga 22 euro 3 giochi top andiamo a vedere come è all'interno non c'è la chiave la chiave è incollata qua top rivivi l'avventura tra i giochi più di 100 livelli da esplorare affronta sfide epiche e riscopri personalità ardenti nuove animazioni e grafica mozzia fiato Spiro 1 che si chiama Spiro The Dragon Spiro 2 The Riptor's Revenge e Spiro 3 Years of the Dragon fighissimi raga fighissimi io li ho giocati al tempo quando ero piccolino questi sulla prima playstation 1 bello 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 non ho capito se sono tutte e tre sul disco oppure vanno scaricati comunque lo andrò a scoprire non c'è nessun fogliettino per scaricare roba quindi presumo che tramite il disco poi gli altri si dovranno scaricare in caso ottimo recupero 22 euro stava un botto perfetto ragazzi questo era tutto quanto il mio video acquisti questi qua sono tutti gli acquisti che ho fatto diciamo ho preso più gadget mi sono concentrato anche più sul recupero di alcuni film che mi mancavano in collezione giochi ne ho presi pochi questo è un po' di giochi digitali va bene ragazzi questo è tutto per il video acquisti spero che vi sia piaciuto come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollice in su un commentino in basso un'iscrizione al canale la campanellina per rimanere sempre sintonizzati su tutti i prossimi video che farò e ci vediamo giorno 28 se non sbaglio per un altro video acquisti penso sia piccolino non penso che mi arrivi altre cose forse c'è solo un gioco comunque ci vediamo giorno 28 ciao e al prossimo video bye ciao ciao